Good morning Milano! Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti! Sono le 7 e 11 minuti in questo istante e siamo qui come tutte le mattine per darvi la sveglia, per darvi la carica, per darvi l'energia giusta per affrontare il giovedì. Sentite come suona bene giovedì? Suona bene perché sa già di weekend, c'è poco da fare, è sempre così, già jove, molti lo chiamano appunto perché è già jove, è già giovedì e quindi pronti anche a così organizzarci magari il weekend. Oggi ad esempio potremmo organizzarci magari un'escursione teatrale insieme alla nostra Tamara Malleo nella seconda parte di trasmissione oppure potete raccontarci voi invece cosa farete quest'oggi, chi andrà a lavoro, chi andrà a studiare, chi andrà a nuotare, visto l'acqua che sta venendo giù in questi momenti, lo potete fare tranquillamente con il nostro numero di Whatsapp 331-78-535-555. È sempre qui pronto a ricevere tutte le vostre suggestioni, suggerimenti e anche consigli per come affrontare al meglio la giornata, noi cerchiamo di darvene altri, noi cerchiamo di darvi un po' di notizie dai giornali. Insomma questo è il nostro menù quotidiano che è il menù della colazione non internazionale, sapete che ci sono gli alberghi quelli che dicono colazione internazionale, no, noi colazione milanese in questo caso. Quindi molto Milano, tanta Milano perché insomma questa città ci piace, l'amiamo, la detestiamo anche a volte ma cerchiamo comunque sempre di affrontarla nella migliore delle maniere. E' questo lo spirito con cui iniziare la mattinata qui a Good Morning Milano, Crystal Radio. I put a spell on you, Annie Lennox, ho 7 e 15 minuti, 7 e 16 minuti anzi proprio in questo istante qui su Crystal Radio e molti di voi, forse molti di voi appunto ieri sera sono andati a letto con una brutta notizia o si sono svegliati questa mattina leggendo questa terribile notizia. No, non fate quelli superiori che dicono ma no ma io ho quelle notizie lì, ah io quella musica lì non l'ascolto perché abbiamo avuto tutti i nostri One Direction. E sì, ieri notte, anzi nella notte appunto è morto Liam Payne, uno dei membri dei One Direction, per chi magari non li conoscesse, quei pochi che non li conoscono, il gruppo dove c'era anche Harry Styles. Un gruppo nato in maniera particolare oltretutto perché è nato da delle audizioni di X Factor, i cinque si sono presentati separati alle audizioni, non sono entrati nella categoria ragazzi, all'epoca c'erano ancora le categorie ragazzi, ragazze, gruppi. E quel mezzo genio, se non dire completo genio di Simon Cowell ha detto, fermi un attimo, ma se vi mettiamo insieme e facciamo un gruppo, beh quel gruppo è arrivato terzo a quell'edizione di X Factor del 2010 appunto in UK e ha poi fatto quello che hanno fatto. Sono stati uno dei gruppi fondamentali per un'intera generazione, con tante ragazze che lo seguivano, ecco, e forse per motivi da una parte anagrafici e dall'altra di mascolinità tossica non sono mai stato forse uno di quelli che seguiva i One Direction, ma ho un ricordo pazzesco del loro concerto qui a San Siro. Sono stato fuori dallo stadio e forse il vero spettacolo per me era lì, era una serata emozionante con tantissime ragazzine molto molto giovani in età che non potevano neanche andare allo stadio, che però sono state accompagnate dai genitori o altri genitori che invece avevano le proprie figlie all'interno dello stadio ed erano fuori ad aspettare. Era quasi più festa fuori che dentro, fuori sembrava di stare in una bellissimo festival, in una festa di paese, tutti sorridenti che cantavano, anche tanti tanti genitori, le canzoni dei One Direction. Quindi so e capisco che questa mattina per tanti che ci ascoltano, per tanti che ci ascoltano, non sia una mattinata facile perché è così, quando si arriva alla conoscenza della realtà, con la dura realtà della vita e ai nostri miti, i nostri compagni di viaggio, perché poi i cantanti spesso sono questo, quando ci lasciano insomma, sono davvero dei macigni che ci portiamo dentro e smettetela veramente, chi lo fa di fare quelli, ma potete mettere One Direction con? No, sono la stessa identica cosa, sono stati gli Spandau Ballet di qualcuno, sono stati Duran Duran di qualcun altro, sono stati Take That di qualcun altro, è così che funziona. Quando siamo ragazzini, quando hai 15, 16, 17, 18 anni, quelli sono i tuoi compagni d'avventura, quelli non sono solo i tuoi miti, non sono solo la band che preferisci, sono proprio i tuoi amici. E questo è successo a tutti noi, è successo a me quando è arrivata la notizia che era morto Kurt Cobain, era finita un'epoca per me, era finito il sogno, era finito. È arrivato quando molti hanno letto, anche con attori magari a volte, non so, ricordo Luke Perry in questo momento, mi viene in mente, insomma, sono quei momenti che ci fanno crescere, ma ci fanno anche davvero tanto soffrire. Quindi questa mattina io voglio essere vicino a chi questa mattina, leggendo i giornali o ieri sera, poco prima di andare a letto, ha scoperto questa brutta notizia, sui social tanti messaggi di cordoglio, ma più che altro di unità, insomma, le ragazze che ascoltavano in One Direction sanno di cosa sto parlando. E quindi non possiamo appunto che ascoltarli con un brano che ha scelto la mia producer Beatrice, che appunto è una di quelle ragazze che li ha ascoltati e come se li ha ascoltati. E quindi i One Direction con History. One Direction History, questo è dedicato a tutte le Directioners che sono collegate con noi questa mattina, è per voi. Allora andiamo avanti a leggere invece le notizie, perché ci sono tante notizie da darvi questa mattina, tra cui ad esempio ricordarvi cosa succede domani. Siete pronti? Siete pronte? Domani sciopero dei mezzi a Milano. Yuppi, yuppi. Orari è tutto, adesso ve lo spieghiamo per bene. Allora, venerdì 18 ottobre, mezzi a rischio in città a Milano, potrebbero fermarsi metro, bus e tram di ATM. Sto leggendo da Milano Today, ma è così il tenore su tutti i giornali e soprattutto quel potrebbero, è abbastanza, cioè nel senso sarà così molto probabilmente. Comunque, venerdì, quindi domani, dalle 8.45 alle 15, dalle 18 fino a fine servizio, lo sciopero indetto dai sindacati. Perché però, cioè la domanda che ci facciamo tutti sempre è perché c'è lo sciopero, perché l'avete proclamato, lo sciopero è stato proclamato, leggo appunto da Milano Today, contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e per l'abolizione degli accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro a partire da quello del 10 di gennaio 2014, per l'abrogazione dei penalizzanti salari d'ingresso ai neossunti, per l'abrogazione dei penalizzanti salari d'ingresso ai neossunti, per il salario minimo di 1.600 euro netti mensili, per i forti aumenti salariali indicizzati dall'inflazione reale, quindi perché serve appunto aumentarlo, per la riduzione dell'orario di lavoro, perché lavorano troppe ore, soprattutto in straordinario, in un lavoro che forse insomma, vi verrebbe da dire, fai il giusto, fai il minimo che serve, poi vai a riposarti, perché insomma essere stanco alla guida di un tram, una metro o un autobus non mi sembra proprio la cosa migliore da fare, comunque la protesta poi è anche contro la privatizzazione, le gare d'appalto della gestione del pubblico servizio di trasporto locale, a richiesta poi di un piano di investimenti e di assunzioni straordinarie in tutti i settori della pubblica utilità, a partire appunto dal trasporto pubblico fino alla sanità, la scuola e i servizi sociali in genere, che devono essere universali e gratuiti, nonché per la ripubblicizzazione, rendere di nuovo pubblica, delle aziende esercenti i servizi pubblici appunto. Il sindacato ha poi portato avanti anche le richieste in tema di sicurezza e tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro, anche quello è interessante, soprattutto qui ho messo un attimo così in fondo al pezzo, ma è interessante la sicurezza e tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro. In questo caso sappiamo che il problema di sicurezza sui lavoratori ATM è abbastanza sentito e quando si parla anche di salute, io aggiungerei anche salute mentale di certe categorie di lavoratori che sono veramente sotto stress in una maniera pazzesca ed è complicato e poi dopo nascono anche situazioni molto pericolose, sono delle polveriere spesso e ventieri. Con questo esempio io parlo di servizio pubblico, anche ad esempio penso al corpo dei vigili urbani di Milano che è sempre abbastanza sottotorchio e ha delle situazioni di lavoro molto complicate per cui poi dopo nascono situazioni in cui noi cittadini magari ci facciamo prendere un attimino la mano diciamo, la vena si ingrossa e insomma invece dovremmo tutti quanti calmarci un po' di più. Non è facile, non è facile per noi che siamo vessati dalle multe, per noi che vediamo le ingiustizie, per noi cittadini che vediamo cose che non ci piacciono, non è neanche giusto, non è neanche facile e giusto poi però per la parte del lavoratore che invece sta semplicemente facendo il suo lavoro e che anzi spesso e volentieri è anch'esso cittadino come noi. Quindi insomma non è per niente semplice, non è per niente facile e speriamo che appunto questo della sicurezza, della tutela, della salute e soprattutto mentali dei lavoratori sia un tema sempre più importante. Lucio Battisti con Supermarket 1971, quei genio di Battisti e Mogol mi fanno sto pezzo e io non potevo non condividerlo con voi anche perché Supermarket giovedì e in punto oggi è giovedì, è giovedì 17 ottobre, sono le 7.37 minuti qui in diretta e arrivano già i vostri whatsapp e quindi leggiamo il whatsapp di Alberto che dice buongiorno amici di Good Morning Milano sapete la novità? No Alberto dici, piove, ahimè non è sta grande novità e poi ci scrive anche Nello che ci chiede, giustamente Nello ci sta guardando anche in diretta video su Youtube, su Facebook, su Twitch, dove volete e ci chiede ma scusate non avete pagato la bolletta perché l'ufficio e la redazione sono al buio? No, è perché li faccio risparmiare per quello, no? In realtà effettivamente guardavo adesso la telecamera della nostra webcam è un po' tanto scuro cioè sembra veramente, non si vede neanche Beatrice Beatrice vuoi un abbraccio, vediamo se ti vedo no, non si vede, si intravede la mano ecco, nel senso però si vede un volto, no, che abbiamo chiamato da Hollywood quelli che fanno la luce bene, capito? allora mi ha fatto, oggi è i soliti sospetti la nostra regia è così, oggi è un po' un thriller dark comunque grazie a tutti davvero per i vostri whatsapp al 3317853555 scriveteci pure perché insomma siamo ben contenti di condividere con voi la mattinata e anche condividere appunto le notizie che arrivano po' così sui giornali un po' in maniera sparsa infatti anzi parlevamo di maltempo e c'è questa ondata di maltempo sulla Lombardia oggi si intensifica oltretutto il Comune di Milano ha diramato un'allerta dicendo fate attenzione alle zone a rischio e a sondazione e ovviamente nei sottopassi allerta oltretutto per possibili naufragi già dalle ore 12 dovrebbe essere un'intensificazione ancora più alta di questa perturbazione appunto che sta, questa ondata anzi di maltempo che sta coprendo tutta la regione anzi da venerdì pioggia su tutta tutta la Lombardia quindi ovunque voi siate vi prenderete l'acqua dovete emigrare verso lì in Florida forse forse in Florida non so all'Ore de Mar a Malaga andate lì speriamo che non piova non so cosa dirvi io spero non piova sabato perché sabato c'ho da fare una bella gita fuori porta di quelle belline di quelle che sono anni che ho organizzato cioè che volevo fare vado a fare il trenino del Bernina ecco se piove proprio lì che maroni speriamo di no non so adesso mi collego con la RSI e chiedo alla meteo della Uno e dico senti Svizzeri com'è il tempo lì sabato piove così glielo chiedo e vediamo cosa mi dicono va bene comunque se voi anzi voi cosa fate cosa fate voi di bello questo weekend cominciamo a raccontarcelo dai che dopo fra poco arriva Tamara Malleo e ci racconterà cosa fare a teatro ad esempio e infatti si chiedeva anche è arrivato un whatsapp al 3317853555 si chiedeva anche Alberto diceva ah ma infatti col buio in redazione pensavo che oggi non ci fosse nessuno no 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 invece c'è è lì è lì dentro al buio c'è la brava Beatrice che sta coordinando tutte le operazioni logistiche di questa trasmissione lei è così è fuori muove carichi sospesi sposta magazzini sposta canzoni da un magazzino all'altro lei fa questo praticamente la mattina quando arriva prende ospiti costruisce costruisce ospiti li veste li li sistema per farli venire in onda li istruisce a cosa devono dire cosa non devono dire insomma quindi insomma è fondamentale tutto questo lo fa nel buio della nostra redazione fino a che non si alza un po' di luce quest'oggi ho paura la cara Beatrice che la luce non si alzerà molto presto sono già le 7.40 e c'è veramente veramente buio nella nostra redazione andiamo con un po' di musica ancora e poi torniamo qui con le notizie dai giornali e dall'informazione locale di Milano questa è Good Morning Milano e state ascoltando Crystal Radio eh vabbè no speriamo che non muoia anche se devo dire qui ha fatto un po' di bagarre è uscita una discussione tra me e Beatrice sui pinguini tattici Beatrice difende i pinguini tattici giusto li difende ti piacciono Beatrice sì ti piacciono infatti ma devo dire che musicalmente parlando neanche a me dispiacciono hanno solo un vizio hanno solo un vizio com'è che si chiama il cantante di pinguini tattici non mi ricordo fammi lo cercare qua come si chiama come si chiama come si chiama vabbè non lo troverò mai ma avete notato che cercare le cose su Google è sempre più difficile oramai vengono fuori una cifra di cose inutili prima di quello che vi serve cioè vabbè comunque come si chiama scrivetemelo voi non lo so ma si può cioè nella prima riga sulla wikipedia dei pinguini non c'è scritto gruppo composto da non c'è scritto Zanotti si chiama come è di nome? Riccardo Riccardo Zanotti ecco Riccardo Zanotti allora Riccardo che scuola avrai fatto? che scuola hai fatto? hai fatto il liceo? sicuramente hai fatto il liceo scientifico sicuramente guarda adesso poi lo vado a vedere non vorrei sapere ma secondo me hai fatto un liceo scientifico e ce lo devi raccontare e ricordare tutte le volte e quella volta là che c'è detto è come la legge di Pareto che nessuno sapeva cosa fosse finché non è arrivato lui a dircela e adesso esplosivo ha fatto il liceo scientifico vedi ecco Beatrice me lo conferma che è andata a vedere la sua bio ha fatto il liceo scientifico ovviamente adesso ci viene a fare qui esplosivo come il litio va bene abbiamo capito che te l'hanno dato il suo diploma basta cioè adesso canta suona la chitarretta e va bene no? cioè adesso questa è l'invidia di chi ha fatto l'istituto tecnico questo che è il mio fallimentare non diploma all'istituto tecnico che parla in questo momento no però bello bravo sì ok anche meno nel senso mi dà un po' fastidio questa cosa che per forza fare sono le assonanze i paragoni queste cose che fa che non mi non mi piacciono molto semplicemente le canzoni in realtà tra prendersi questa canzone non l'ho ancora capita perché è romantico ma deve morire spiegatemelo voi se l'avete capito al 33178 53555 dove il buon Alberto ha iniziato invece una discussione molto lunga perché prima ho detto che questo weekend andrò a fare in realtà solo sabato ci vado perché sono povero e ho dovuto fare come giornata ci vado solo sabato a fare il trenino del Bernina e anche Alberto dice anche io faccio treno ma lo faccio domenica vado a visitare il treno storico di ferrovie nord Milano e il treno storico di ferrovie nord Milano faccio e il deposito di Novate ok e mi accorgo ora che negli ultimi tre weekend li ho passati tutti a vedere i mezzi su rotaia è vero lo scorso weekend eravamo insieme a vedere ad esempio la M4 siamo incontrati appunto alla fermata di San Cristoforo della M4 per l'inaugurazione quindi anche lo scorso weekend era tutto io ho fatto sabato e domenica tra parentesi lo scorso weekend sabato l'inaugurazione e domenica un viaggio inaugurale con gli amici e i figli da San Cristoforo cioè i figli non miei i figli degli amici da San Cristoforo no tranquilla mamma che stai ascoltando non ho figli sparsi in giro per il mondo che vengono con me a vedere le metropolitane no tranquilla comunque abbiamo fatto questo viaggio appunto da San Cristoforo fino a a Linate andate a ritorno anzi a ritorno mi siamo fermati anche in un paio di stazioni lungo la strada così per visitarle come vi ricordavo appunto quella di Sforza Policlinico che credo sia fuori una delle più belle in assoluto c'è un panorama intorno bellissimo c'è la statale il retro della statale che si vede il Policlinico di là cioè è veramente bellissima la strada è stata molto allargata anche quindi c'è molto spazio peccato che non ci sia il passaggio con la M3 questo lo continuerò a dire sarà sempre il mio cavallo di battaglia c'è poco da fare comunque 331 7853555 il nostro numero di Whatsapp usatelo usatelo bene come fa Alberto come ha fatto Nello come fa Adriana insomma scriveteci tutte le mattine perché noi siamo qua ad ascoltare voi non siete voi che ascoltate noi siamo noi che ascoltiamo voi e voi ci fate sempre compagnia grazie a tutti Cristal Radio good morning Milano a fra poco comunque questa storia del maltempo delle ondate di maltempo delle bombe d'acqua ci sta portando alla fiera della banalità e dell'ovvietà come quando fa caldo d'estate e ci dicono di non uscire nelle ore più calde della giornata come se uno ha voglia di uscire il 15 d'agosto io all'una ho voglia di andare a farmi una bella corsetta in corso sempione no se sono in corso sempione all'una del pomeriggio ci sarà un motivo per cui non ho potuto andarci alle 5 del pomeriggio non ho potuto andarci alle 7 del mattino quindi non è che il vostro consiglio di non andare a correre all'una del mattino serve a qualcosa come ad esempio in questo caso con il maltempo il comune che ricorda è scritto in grassetto su Repubblica anche di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi nei pressi di impalcatura di cantieri Deors e Tende allora perché la fiera della banalità cioè righe così righe rubate al niente neanche alla stampa perché tanto non stampiamo neanche più comunque uno trovare a Milano un posto che non abbia queste caratteristiche ormai sembra più difficile perché ormai gli alberi li abbiamo voluti ovunque vogliamo i viali alberati vogliamo gli alberelli nei parchi e tutto quindi più di alberi giustamente mi piacciono anche sono contento poi impalcature dal 110% in poi Milano è un cantiere aperto praticamente ovunque ci sono impalcature non credo ci sia una via che non abbia un'impalcatura ormai a Milano per non parlare poi dei Deors che sono praticamente ormai ci sono delle zone che sono solo Deors e Tende che vabbè e quelle abbiamo delle tende ci sono un paio di palazzi su Buenos Aires mi sono accorto che sono magari un pochino più lasciati andare rispetto ad altri che ci sono delle tende quelle le veneziane verdi che secondo me penso abbiano salutato non lo so l'arrivo degli americani in città cioè qualcosa del genere una roba del genere mi dà l'idea di essere una roba che veramente è lì dal 45 più o meno quindi insomma questi beh grazie io ringrazio chiunque abbia dato questi consigli grazie anche per credere che siamo un branco di rimbambiti che non sappiamo andare in giro quando piove magari così è nota margine come si dice in questi casi non sarebbe male se quando progettiamo le città quindi progettiamo il livello alberato bello progettiamoli in maniera che però quando viene giù l'acquazzone grosso quando viene giù il temporone grosso quell'albero rimanga lì e non venga giù quindi magari gli diamo più terreno sotto gli diamo meno cemento intorno magari facciamo queste belle spianate di cemento con delle belle canaline per il deflusso dell'acqua magari con un po' di cemento in meno con magari del terriccio da qualche parte che possa drenare l'acqua non so questa potrebbe essere un'idea ad esempio comunque so che io sono molto sono un romantico sono un sognatore sono quello che volete e quindi poi devo fare i conti con la città devo fare i conti con una darsena che è praticamente un bacino una vasca lavagna di cemento con il piazzale dello stadio che è una colata di cemento in mane con due alberelli poveretti rinchiusi e cementificati ormai al terreno insomma lo so che poi la città è quella roba lì però quando leggo queste cose una nota a margine comunque mi piacerebbe darvela invece ascoltatevi bene quello che sta arrivando adesso perché è il giornale radio di Crystal Radio e poi dopo torniamo qua con Tamara Malleopundo e i suoi consigli per il teatro e l'abitudine del teatro cioè quello che dovrebbe diventare davvero un teatro per noi una vera e propria abitudine tanti consigli seguiteci appunto alle 8 e 05 più o meno saremo qua con Tamara Malleopundo a raccontarvi di teatro adesso il giornale radio un po' di musica un po' di canzoni e poi ancora qui con voi 3317853555 questa è Good Morning Milano e voi state ascoltando Crystal Radio a fra pochissimo Sharon Reid Can You Handle It? questo è il Crystal History di Crystal Radio ogni ora una canzone che dal passato vi fa ritornare in mente ciò che avete ballato da giovani ad esempio o magari invece ciò che non avete mai sentito perché non eravate ancora nati ma vi dà uno spunto magari per trovare qualcosa è questo che appunto si discuteva poco fa in redazione redazione che è ancora al buio quindi la luce oggi non vuole arrivare dovremmo accendere le luci ho questa idea quindi oggi non possiamo andare in risparmio energetico niente dovremmo accendere le luci per forza comunque nelle ovvietà che abbiamo detto oggi ovviamente è arrivato anche il re dei luoghi comuni il nostro Nello che spesso volentieri ci scrive ci raccoglie ci dice anche che appunto parlando di maltempo dice comunque ricordiamoci sempre che con sto tempo non asciuga niente ecco anche questo è vero insomma ovvietà sono tante ovvietà cosa che invece non succede mai perché anzi c'è un'ovvietà che è quella cioè che con Tamara Malleo andiamo sul sicuro ma non è mai ovvio non è mai un'ovvietà ciò che ci racconta buongiorno Tamara grazie Fabio sempre troppo buono buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di questa radio e Gusmormi di Milano allora Tamara se vuoi dalla prossima settimana ti insulto ogni volta che mi collego se vuoi arrivata quella rompi balla di Tamara ecco dai allora su dai raccontaci faccio così va bene raccontaci un po' raccontaci dai veloce che dobbiamo andare a fare ma infatti sarò molto veloce no 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 invece no voglio che tu ci racconti tutto bene per bene piano piano quello che deve diventare una nostra abitudine esatto ma a proposito di passato che torna il primo spettacolo è un aggancio perché parliamo di Amy Winehouse quindi anche di musica perché al teatro Oscar che invia l'attanzio che si raggiunge con se vogliamo raggiungerlo con i mezzi con la metropolitana gialla fermata Lodi con il tram 16 o con la circolare 90-91-92 quindi una circolare che abbraccia la città al teatro Oscar domani da venerdì 20 scusate da venerdì 18 a domenica 20 ci sarà Amy Winehouse uno spettacolo proprio in onore di Amy Winehouse di Melania Giglio che in qualche modo ripercorre le tappe umane musicali più significative della cantante e mettendo in evidenza un po' la fragilità che ha caratterizzato il percorso artistico e personale di Amy Winehouse chiaramente diciamo ci sono stati anche io ho visto altri spettacoli su Amy Winehouse sono tutti spettacoli che ognuno cerca di percorrerlo come meglio arriva anche a sé e quindi c'è tutta una visione artistica che si inserisce all'interno del percorso poi della cantante e in questo caso siamo proprio nel suo appartamento a Londra circondata dalle cose che con cui viveva tutti i giorni riceve questa telefonata dove lei è molto contenta di ricevere questa telefonata che sarà però una telefonata che la accompagnerà con una notizia per tutta la giornata ma quella giornata sarà l'ultima che vivrà e quindi in questo ripercorrere l'ultima giornata di vita di Amy Winehouse si torna anche a ripercorrere in qualche modo appunto la sua produzione artistica e in qualche modo anche la sua storia personale molto complessa piena di insomma crepe che chiaramente non possono non possono essere messe in luce proprio perché sono crepe ma che in qualche modo si cerca di raccontare quindi Melania Giglio prova a fare questo percorso nella vita anzi nell'ultima giornata di Amy Winehouse insieme a Marco Imparato e Lorenzo Patella con la regia di Daniele Salvo al Teatro Oscar da venerdì 18 a domenica 20 Teatro Oscar quindi siamo via Lattanzio zona Lodi piazzale Lodi perché uno va a Lodi città a cercare Tatro Oscar a questo ora i nostri ascoltatori sono un po' addormentati e quindi quella zona di Milano ci spostiamo e torniamo ormai a un teatro per noi molto familiare che è il teatro del Puccini perché la prossima settimana lo consiglio ci sarà in scena uno spettacolo molto diciamo così è una piccola produzione ma io trovo che sia molto un viaggio da fare lo spettacolo si chiama Stitching è un testo di un autore scozzese Anthony Nilsson con la regia di Alessandro Federico che sarà in scena insieme a Valentina Virando ed è la storia come diciamo così ci ha abituato la drammaturgia contemporanea anglosassone è un testo molto duro molto vero che affonda nella quotidianità senza fare sconti si racconta la storia di un uomo e una donna che hanno una relazione che a un certo punto devono fare una scelta quella scelta sicuramente cambierà le sorti del proprio percorso insieme ed è una scelta che implica tutta una serie di contrasti che emergono quando due persone molto diverse decidono di vivere una parte della loro vita insieme e diciamo così Anthony Nilsson l'autore non fa sconti a nessuno dei due quindi mettendo in evidenza anche la parte più veramente più più oscura di noi che emerge proprio nel contrasto nel capire in una scelta che cosa si deve privilegiare quando si è insieme e devo dire che appunto io ho visto lo spettacolo è uno spettacolo che appunto ha questo linguaggio veramente crudo senza insomma anche abbastanza forte però necessario per arrivare a quella cucitura per capire come quella cucitura possa unire due lembi così frastagliati e se quella cucitura in realtà sosterrà questa nuova io la chiamo questa nuova coperta perché in realtà sono due pezzi di stoffa che vengono messi insieme regge questa cucitura e non lo sappiamo e non lo sapremmo forse neanche alla fine questo lo scoprirete solo andando al teatro Elfo Puccini da martedì 22 a domenica 27 è un piccolo spettacolo dura più o meno un'ora quindi anche un tempo molto contenuto però gli interpreti sono meravigliosi Alessandro e Valentina riescono a portarci nel fondo di quello che una relazione ci raccontano gli scontri chi ha ragione chi vuole imporre il proprio punto di vista perché crede che sia l'unico possibile e dentro ci sono anche poi momenti di tenerezza momenti di grande passione però momenti anche di grande scontro teatro Elfo Puccini si trova in Corso Buenos Aires metropolitana rossa fermata Lima o Porta Venezia facilmente raggiungibile sul parcheggio un po' meno però tutte le metropolitane che ci sono terzo appuntamento dove ci porti Vettamara teatro filodrammatici siamo in pieno centro dietro la scala di Milano quindi metropolitana rossa Duomo da stasera no scusate sempre da venerdì da venerdì da venerdì 18 a domenica 20 c'è Claudio Morici che porta in scena è un diciamo così a me non piace un attore che è molto conosciuto al grande pubblico perché ha fatto molti interventi anche a propaganda live insomma in televisione quindi è un volto conosciuto e ha portato a teatro molto spesso le biografie degli scrittori e in questo caso cerca di entrare di riconoscere fa un percorso all'interno dell'idea di genio e follia raccontando come i libri possano avere un potere catartico nel proprio percorso personale lo fa raccontandolo al proprio figlio è un figlio che appunto lui deve accompagnare da un'età diciamo così di bambino quindi di infanzia ad un'età preadolescenziale e quella follia che sembra quasi ingestibile in realtà può trovare non dico riposo ma può trovare una forma di espressione attraverso la storia di tanti autori autori che vengono riconosciuti dalla storia appunto fogli e che in realtà quella follia è una follia che li porta ad una narrazione perché appunto lui parte dallo spirito creativo dell'artista che può essere rappresentato come la perla che nasce dalla malattia dell'ostrica come non si pensa alla malattia dell'ostrica mirandone la perla così di fronte alla forza vitale dell'opera non pensiamo alla schizofrenia che forse era la condizione della sua nascita quindi partendo da questo principio della malattia dell'ostrica lui fa questo percorso all'interno appunto della storia della storia letteraria si parla di Cesare Pavese si parla di Emilio Salgari si parla di Gadda si parla di Gabriele D'Annunzio cioè di tantissimi autori legandoli appunto all'idea di schizofrenia di furilia eccetera e al potere salvifico poi dei libri o comunque della letteratura chiaramente con un linguaggio molto ironico molto divertente molto coinvolgente in un lui è da solo in scena quindi un monologo una stand up adesso si può dire stand up qualcosa una miscela di queste due cose che infatti non è detto che sia solo quello poi la stand up appunto ha tante facce monologo cioè non è che non è molto diverso cioè ha delle caratteristiche diverse poi nella sua nella sua esposizione da parte del pubblico però poi alla fine la sostanza è quella da domani sera giusto dicevi da venerdì 18 a domenica 20 al teatro filodramatici che si trova appunto dietro la scala di Milano quindi metropolitana rossa Duomo facilmente raggiungibile ecco in macchina anche questo consiglio di no si può raggiungere anche in bicicletta ah giusto giusto anche forse non so perché mi sa che piove tutto l'weekend ecco questo forse però diciamo che tre metropolitane che passano di lì praticamente nella zona anzi c'è più la quattro lì vicino adesso quindi insomma un modo la trovate adesso peraltro sai che molti teatri adesso non in questi giorni come dicevi tu però molti teatri se arrivi in bicicletta ti fanno anche lo sconto ah vedi la cooperativa ha sempre queste iniziative molto interessanti per incentivare l'utilizzo di mezzi ecologici o comunque insomma un po' più rispettosi dell'ambiente grazie dello spunto allora come si dice in questi casi va bene Tamara grazie c'è qualcosa altro no basta ricordiamo dove possiamo sentirti vederti così almeno concludiamo in bellezza allora teatro mania l'appuntamento è il venerdì dalle 15.30 alle 17 su Milano canale 191 del digitale e il lunedì alle 23.30 su Antenna 3 canale 11 perfetto allora Tamara grazie mille dei tuoi consigli faremo tesoro prezioso e speriamo appunto di vederci a teatro di far diventare questo teatro davvero un'abitudine veniamo a teatro grazie mille Tamara buona giornata ciao buona giornata a voi e adesso un po' di musica Cristina Aguilera con Candyman e poi torniamo qui ancora Good Morning Milano Cristina Aguilera con Candyman 8 e 26 minuti Crystal Radio Good Morning Milano fra pochissimo un po' di pubblicità poi torniamo qui con tutte le nostre notizie tutto quello che abbiamo da raccontarvi ancora in diretta fino alle 9 e poi dopo sapete ormai la mattinata di Crystal Radio è iniziata e quindi poi dopo di nuovo ci sarà senti questa poi che idee insomma la mattinata va avanti ma non state le sue femminine la mattina perché poi anche il pomeriggio insomma Crystal Radio davvero tutto il giorno vi tiene e vi fa compagnia ma soprattutto la fate voi la compagnia a noi 3317853555 scriveteci siamo qui pronti a ricevere tutti i vostri whatsapp audio messaggi foto link quello che volete noi siamo qui condividiamo insieme a voi condividiamo la mattinata qui su Milano adesso ancora un po' di musica e poi torniamo appunto con le ultime notizie dai giornali locali di informazione ma c'è un po' di tutto poi c'è anche l'almalacco se volete vi dico anche oggi sono il compleanno di un paio di persone famose vediamo se sapete di chi la rappresentante di vista la città addosso alle 8 e 36 minuti Crystal Radio Good Morning Milano queste sono le coordinate insieme al nostro numero di whatsapp 3317853555 non smetterò mai di ripetere così che vi entri nella testa anche perché è lo stesso per le trasmissioni che vengono dopo di noi quindi insomma potete usarlo tutto il giorno per scrivere a chiunque passi dietro questi microfoni qui a Crystal Radio la città addosso la città che insomma spesso mentieri è complicata da vivere o da capire ma ogni tanto anche qualche buona notizia arriva ad esempio è stato ritrovato lo studente sedicenne che era scomparso da Monticello Brianza è stato ritrovato a Milano appunto ieri leggo da Corriere della Sera a Milano è ritrovato a Milano lo studente sedicenne scomparso da Monticello Brianza è stato riconosciuto in metro da un addetto ATM dalla centrale operativa tramite telecamera l'operatore ha visto il giovane che si infilava in una galleria della linea verde e ha chiesto l'intervento e le forze dell'ordine a quel punto Luca appunto è stato ritrovato quindi Luca è vivo e sta bene ieri sera appunto sedicenne studente di Monticello Brianza che si era allontanato da casa cinque giorni fa quindi pensate veramente la prensione anche che c'è intorno a un ragazzino perché ha 16 anni vabbè ok un ragazzino che prende da Monticello Brianza se ne va via per cinque giorni insomma immagino la famiglia quanta ansia è stato fermato appunto a Milano Luca nella stazione della metro Moscova a notarlo intorno alle 19.30 un agente della sicurezza ATM che stava operando dalla centrale operativa attraverso un monitor ha visto un ragazzo infilarsi in una galleria della linea 2 lo ha riconosciuto ha anche detto ma quello è Luca e ha chiesto l'intervento a delle forze dell'ordine quindi che sono anche intervenute non solo appunto perché c'è come si dice in quel caso l'uomo in galleria ma anche perché appunto non ha riconosciuto che era Luca siamo semplicemente felici Luca è stato trovato la mamma lo sta raggiungendo un grazie a tutti gli amici ai volontari ai gruppi ai sindaci ogni piccolo e grande aiuto è stato fondamentale per le ricerche un grazie di cuore soprattutto a tutte le forze dell'ordine queste sono state le parole del sindaco di Monticello la sindaca di Monticello Alessandra Hoffman quindi meno male che sono una città di Milano anche delle buone notizie come diciamo sempre ci sono anche buone notizie e cerchiamo di dare soprattutto quelle qui a Good Morning Milano dicevo che oggi è anche il compleanno di gente importante di gente famosa chi? Eminem oggi è il compleanno di Eminem 52 anni il ragazzo fa insomma non è non è poca roba e pensa a te che il caso il grande rapper Eminem nello stesso giorno fa il compleanno un altro grande rapper italiano Fabri Fibra 48 anni oggi quindi anche tanti auguri al Fabri a Fabrizio Tarducci appunto in arte Fabri Fibra insomma questi sono i compleanni degli cantanti di oggi che volevo condividere e raccontare con voi adesso invece andiamo con un po' di musica musica di quella che è bella questa qui è la scelta la scelta Beatrice sicuro conoscendola questa è la scelta Beatrice si sto parlando degli Abba con Money 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 8 e 39 minuti Crystal Radio Good Morning Milano e gli Abba con Money 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 grazie mille Beatrice per aver scelto questa canzone grazie mille volevo oggi invece condividere con voi un come si chiama un contenuto un contenuto che ho trovato su Instagram fatto da un creator che in realtà poi ho scoperto da essere anche un doppiatore sto parlando di Giacomo Bartoccioli è un creator è un appunto anche un doppiatore ha fatto anche ha doppiato anche di film abbastanza importanti ha doppiato degli anime insomma ha doppiato varie cose infatti sentirete appunto dalla voce che sicuramente non ha niente a che fare con la mia ma ha voluto riscrivere un pezzo che cosa ve lo ricordate il film Trainspotting ve lo ricordate bene ok vi ricordate il monologo iniziale io scelgo la vita per intenderci quello lì no quello sulle note di Last for Life ecco quello lì quel pezzottino lì ecco bene l'ha riscritto l'ha riscritto in chiave moderna come sarebbe oggi il monologo di Trainspotting se fosse scritto ai giorni d'oggi beh basta chiederlo a Giacomo Bartoccioli che farebbe come si dice farebbe più o meno così scegliete la vita scegliete un lavoro scegliete un maxi-iphone del cazzo scegliete un format filtri tag color correction scegliete la musica in tendenza nella vana speranza di diventare virali scegliete i vostri interessi una bio scrivete in una riga lo slogan che più vi rappresenta scegli i mental coach i guru il giusto consiglio da dare al tuo amico depresso perché non scopa segui un travel blogger perché ti piace viaggiare scopri le 5 cose da non fare in un posto esotico in cui non andrai mai scegli il dibattito la satira che i contenuti leggeri non fanno per te segui un tizio con la laurea trinnale che ti spiega in un minuto e quindici la fissura nucleare poi torna al bar a dire che sei contrario scegli le 4 curiosità sul sesso i 5 segnali che il tuo ragazzo è psicopatico diagnostica la tua amica antipatica un bel disturbo narcisistico di personalità commenta la tua influencer preferita in caps lock e fatti una bella sega sul suo like finché non scopri che era solo un'intelligenza artificiale scegli il fitness girl i content creator le diete i nutrizionisti improvvisati scegli il tuo format preferito salta i video troppo lunghi e poi sdraiati e soffoca il tuo tempo in un continuo intrattenimento personalizzato fino a non sapere da che parte dello schermo stai ma fiero di aver lasciato al mondo un perfetto confezionato spot della tua esistenza scegli chi seguire scegli la vita ma perché dovrei fare una cosa del genere io ho scelto di non scegliere più un cazzo le ragioni non ci sono ragioni a cosa serve scegliere quando hai un algoritmo perché scegliere perché scegliere quando puoi scegliere un algoritmo insomma questa è la domanda che ci facciamo spesso soprattutto tutti i giorni quando poi noi ad esempio dobbiamo andare a produrre i nostri pezzettini a mettere sui social social che sono il bene sono il male chi lo sa insomma è davvero complicato capirlo sicuramente ci tengono vicini mi fanno conoscere molti di voi che ci ascoltano ogni mattina mi fanno conoscere quelli di voi che incontro per strada mi raccontano delle storie poi magari vengono raccontate qui in trasmissione insomma è complicato dall'altra parte è vero che insomma è molto interessante questo monologo di Giacomo Bartoccioli cercatelo su Instagram il suo è Bartoccioli basta credo se vi fatti chiocciola Bartoccioli semplice lo trovate insomma ne fa ha fatto dei bei pezzi tra questo questo qui secondo me è molto ben scritto e molto ben recitato quindi questo era il mio augurio di una giornata diversa dal solito magari di insomma scegliere qualcosa di diverso ogni tanto quando troviamo qualcosa di interessante in giro così da adesso in poi ve lo faremo ascoltare condividiamo con voi chissà che magari anche voi avete voglia di condividere con noi qualcosa di interessante che trovate in giro magari in giro per Milano al 33178 5353555 ancora un po' di musica adesso è il momento di Elodie con Black Nirvana e poi troviamo ancora qui per i saluti finali Elodie con Black Nirvana le 8.48 minuti siamo quasi in conclusione ma insomma volevo darvi un attimo le ultime notizie veloci così da leggere dai nostri giornali ad esempio Repubblica ci racconta di come ieri mattina se eravate in zona tribunale ad esempio molto probabilmente ve ne sarete anche accorti perché hanno evacuato praticamente tutto il tribunale sì evacuato il tribunale di Milano perché Milano incendia nella sala caldaie del palazzo di giustizia evacuato tutto il tribunale centinaia di persone in strada non risultano né feriti né intossicati e secondo appunto una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite da un tubo tagliato per sbaglio da alcuni operai qui tra chiodi messi male tubi tagliati si rischia sempre di dover paralizzare la città o il paese completamente comunque vale prima abbiamo ascoltato Bartoccioli che ci raccontava un po' come sarebbe il monologo di transporting oggi e poi vi ha fatto sentire ovviamente un accenno di Last for Life di Iggy Pop so che quindi a quel punto non è che posso darvi posso darvi così il dolcettino e poi tirarvelo via non posso farvi sentire il profumo della brioche e poi non darvela non posso farvi sentire il profumo della carbonara e poi non darvela e quindi ovviamente ce l'ascoltiamo tutta adesso lui è Iggy Pop questa è Last for Life e voi fate come volete ma sapete cosa fare scegli Good Morning Milano scegli Crystal Radio 8 e 54 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano qui su Crystal Radio dopo di noi come sempre Ambrogio Curti pronto già a raccontarci qualsiasi cosa sulla musica perché lui ne sa veramente tutte ebbene si legge tra le righe legge tra le note quindi insomma altro che note a piedi pagine sono note di Ambrogio Curti che ci racconta la musica e le loro storie se invece volete riascoltare qualcosa di Good Morning Milano invece il nostro sito goodmorning.milano.it c'è tutto quello che volete potete prendere i vari pezzi riascoltarli potete collegarvi a Spotify o Apple Podcast per il nostro podcast oppure potete risintonizzarvi domani mattina qui alle 7 su Crystal Radio le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Tamara Malleo e Fabio Ranfi in regia Ginevra e Beatrice e all'ascolto tutti voi grazie mille per essere qua con noi a domani dalle 7 qui su Crystal Radio ciao ciao ciao